Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video! Oggi siete in entrambi i canali Io sono Blin46 E io sono Garnon di Propesi Esattamente Siamo insieme perché abbiamo appena finito di registrare Il primo video di una serie che... No! E' stata una fatica questo primo episodio che poi vedrete settimana prossima Il venerdì alle ore 19 Una fatica però pensiamo che sarà ricompensata Perché insomma siamo piuttosto soddisfatti ecco del risultato Poi vedremo in fase di editing Ma io sono sicuro che è venuta una figata Perché ragazzi è una figata Sono sicuro al 100% Oggi vi presentiamo il Propesi Modding Project O PMP se volete un po' più semplice da dire Una vera e propria gara tra cinque concorrenti Cinque aspiranti modder che ci sfideranno Cercando di dar vita alla mod più bella La mod più creativa Quella anche che stuzzicherà di più Insomma voi Perché anche voi come vi spiegheremo adesso tra un attimo Potrete esprimere un giudizio Ogni settimana il venerdì alle 19 Troverete due video Uno sul mio canale E uno sul canale di Propesi Che non saranno uguali però Non saranno uguali no Nel mio video andremo ad analizzare la build Andremo a parlare con il modder Vedere come l'ha realizzata Mentre sul video di Propesi Diciamo ci saranno dei frame Degli shot fatti molto bene Dove potrete vedere nel dettaglio Apprezzare, ammirare nel dettaglio Ciascuna build E soprattutto tramite questo video Potrete votare Votare la build Da esprimere un giudizio Giudizio Che conterà per un terzo Per un terzo del voto finale Perchè il 16 settembre Al Modena Nerd Ci sarà la premiazione Di questa gara Di questo Di questa sfida Tra questi cinque modder E il vostro voto ovviamente Sarà importantissimo Perchè c'è anche una giuria Una giuria Vogliamo dire qualche nome della giuria? No 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 Non diciamolo Rimarrà una sorpresa Seguite i social Perchè vi aggiorneremo sicuramente Al riguardo Fra ma tu prima hai parlato Di sfida darmi pari giusto? Eh si ebbene si Perchè tutti i concorrenti Hanno ricevuto le stesse componenti Esatto Parlando di stesse componenti Ringraziamo Anzi cogliamo l'occasione Per ringraziare Gli sponsor di questa serie Che sono Gigabyte Thermaltake E Intel Che hanno reso possibile Possibile ragazzi Davvero tutto questo acquo Perchè anche ci teniamo tantissimo Si ci teniamo tantissimo Perchè il risultato finale E' qualcosa di veramente stupendo Sicuramente è una cosa inedita Che non ha mai provato a fare nessuno Quanto meno in Italia Perchè questo lo consideriamo Ah no no su Youtube non mi sembra Esatto Uno show sul modding ragazzi Che parla di PC moddati E i NPC se vogliamo Esattamente Perchè comunque le configurazioni Sono di fascia decisamente alta E mai viste Cioè sono completamente personalizzate E customizzate Esattamente si Ovviamente vi invitiamo A iscrivervi ad entrambi i canali E seguirci nei vari social Vi lasciamo tutti i vari link In descrizione Eccetera E direi che è tutto Grazie Francesco Grazie a te Blink E ci vediamo venerdì prossimo Alle 19 Come tutti gli altri venerdì Da qui in avanti Fino al 28 luglio Per il primo episodio Del Profesi Modding Project Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao